Primo dei tre appuntamenti di Agora Salute all'auditorium Pieraccini del San Donato di Arezzo, incontri di confronto tra la direzione aziendale della ASLE e i cittadini per fare il punto dopo l'accorpamento delle aziende sanitarie di Arezzo, Siena e Grosseto. Pochi, a nostro modesto parere, gli interventi dei cittadini che hanno perso l'occasione per avere risposte sulla loro sanità. L'evento è arrivato peraltro all'indomani dell'aspra polemica tra Luciano Ralli, sottoscritta anche da Angelo Agnolucci e dal segretario del PD e la direzione aziendale che a mezzo stampa aveva anche consigliato a Dindarini di pensare alle cose di casa sua. Durante gli interventi è stata ribadita l'importanza di investire in alcuni settori oggi fondamentali come la psichiatria e la medicina d'urgenza. Il sovraffollamento del pronto soccorso è determinato in parte dalla grande quantità di accessi ma in parte dalla difficoltà in uscita. Adesso siamo a una media di 205-310 accessi al giorno con punte di 270. Noi dobbiamo fare riferimento al modello anglosassone che non divide i servizi della salute mentale a 18 anni. Cioè c'è tutta la fascia che vale ai 12-25 anni, che è una fascia omogenea e che interrotta a 18 anni crea l'aggravamento del fatto che è già difficile agganciare una persona di 17 anni ma poi è difficilissimo passare ad un altro servizio se è stato appena agganciato. Alla fine una buona notizia c'è, un milione e mezzo di euro per il San Donato e la promessa di ripetere questi incontri in maniera sistematica. Secondo me, diciamo così, pochi cittadini, tanti medici a dare risposte, questo sicuramente. Lei ha preso l'impegno di organizzare incontri di questo tipo addirittura ogni quattro mesi quindi magari la cittadinanza potrà partecipare di più. Abbiamo sentito una bella notizia, un investimento importante che dovrebbe arrivare nel 2018. Noi abbiamo il piacere di ascoltare i cittadini. Naturalmente i cittadini che sono venuti, non pochi, ma insomma quelli che sono venuti avevano le idee chiare, hanno fatto domande molto precise e anche molto buone, molto precise. I professionisti presenti hanno dato loro risposta e abbiamo tutti detto non buttiamo via quelle tante cose buone che facciamo, forse confronto agli altri meglio degli altri ma attenzione, ci sono tante tante cose da fare meglio. Questo è stato un po' il light motive di questa giornata. Ci piace l'idea che diventi un appuntamento ogni quattro mesi quindi in autunno ci ritroveremo con i cittadini e io ho preso appunti e tutte le cose che ci sono state dette le torneremo ad affrontare insieme.